Signori buongiorno e benvenuti ancora una volta qui al Salone delle Feste del Casino di Campione d'Italia per il Day 3 dell'Italian Poker Open diciottesima edizione. Per alcuni di voi questa sarà una giornata molto lunga e vi ricordo che giocate per una prima moneta del valore di 200.000 euro a cui viene aggiunto un ticket per il main event delle World Series of Poker di Las Vegas. In bocca al lupo a tutti voi riprendiamo il torneo ante 2.000, piccolo buio 12.000, grande buio 24.000. Shuffle Open D. Alle mie spalle i 14 tavoli che ospitano i 137 left di questo Italia in Poker Open diciottesima edizione si riparte molto presto alle 13, la giornata sarà molto lunga fino al raggiungimento del final table con il sogno di vincere la prima moneta da 200.000 euro. Il chip leader che è arrivato un po' in ritardo, Foschini con oltre 2 milioni di chip, è insidiato da giocatori molto pericolosi come Xialin, Manlio Iemina e Antonio Bernaudo. Attenzione anche ai big e ai regular ancora in gara come Roberto Babai, Dario Canistrà, Vincenzo Scarpitti, Ravazzani, Salvatore Buonavena e Claudio Swiss Rinaldi che si presenta a corto sotto Eveledge con 300.000 ma è sempre molto pericoloso.